buonasera in questa occasione vorrei condividere con voi un dato interessante un elemento fatto nuovo che dir si voglia vorrei poterla chiamare ricerca ma in realtà non ho scoperto nulla che non fosse già evidente da tempo nello specifico mi riferisco al caso di elisabetta ciabani molti di voi sapranno che elisabetta ciabani una ragazza di 22 anni di firenze venne rinvenuta cadavere la mattina del 22 agosto 1982 in località san piriscicli in provincia di ragusa nel locale adibito a lavanderia all'interno di una residence denominato baia saracena dove la ragazza alloggiava per le vacanze estive la vicenda di elisabetta ciabani ha da sempre attirato la mia attenzione quella della maggior parte delle persone che seguono la vicenda del del mosso di firenze perché perché negli anni è anche affiorata l'ipotesi che la morte della ragazza potesse essere in qualche modo collegata ai delitti perpetrati dal dal mosso di firenze ribadisco ipotesi perché non si ha a disposizione alcun dato certo che corre lì elisabetta ciabani alla vicenda del sere al chile delle coppiette nel tempo sono emerse diverse teorie tra cui quella che elisabetta ciabani potesse conoscere susanna cambi barbaramente trucidata dal mostro nel 1981 a travale di calenzano non di meno la morte di elisabetta ciabani a distanza di anni è ancora avvolta nel mistero perché in molti famiglia compresa non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio motivazione con cui invece vennero archiviate le indagini da parte degli inquirenti come detto sulla triste vicenda di elisabetta ciabani negli anni ho effettuato le le mie ricerche scandagliando tutto il materiale disponibile consultabile in rete stampa dell'epoca articoli recenti e mi riferisco in particolare al servizio di antonio casa che ad agosto scorso ha ricordato il quarantesimo anniversario della scomparsa di elisabetta su ragusa oggi e poi approfondimenti di studiosi documenti fotografie eccetera nelle ultime tre settimane molti di voi avranno sicuramente seguito il canale youtube i mosse di firenze che ha trattato approfonditamente appunto il caso ciabani e che con la partecipazione della dottor gianguido zurli scrittore e regista ha letto e mostrato i verbali redatti dagli inquirenti nelle ore successive la morte della ragazza ecco durante la lettura di questi documenti si è ovviamente anche fatto cenno al misterioso biglietto trovato il 23 agosto 1982 dal giornalista giuseppe calabrese che all'epoca era un collaboratore della redazione di video mediterraneo un emittente locale giuseppe calabrese durante un servizio appunto televisivo all'interno dei locali in cui venne rinvenuto il casale dell'elisabetta trovò un foglio di agenda con appuntati alcuni riferimenti che prontamente poi consegnò alle forze dell'ordine il foglio è questo io tratto queste immagini da un contributo di francesco capelletti che peraltro ringrazio per la miriade di materiale che mette a disposizione di tutti questa è la pagina di un'agenda datata 27 ottobre che poteva essere utilizzata sia per l'anno 1979 che per il 1980 o 1981 tant'è che come potete vedere in alto a destra leggiamo sabato lunedì o martedì rispettivamente il 27 ottobre di ogni anno sopra citato questo appunto come potete vedere recita inizialmente col caruso che sta per colonnello caruso perché all'interno di questo residence l'allora colonnello caruso disponeva di due appartamenti poi leggiamo appunto caruso massimo 22 23 anni caruso massimo era è il figlio del colonnello caruso poi ancora leggiamo 6 a 16 a 18 a che erano rispettivamente i numeri di appartamento di elisabetta ciabani e del colonnello caruso nel 6 a soggiornava appunto elisabetta ciabani con la sua famiglia nel 16 due ragazze tra cui la sorella di massimo figlia anche la di caruso e nell'altro 18 a sempre di proprietà del colonnello caruso soggiornava massimo il figlio e un altro giovane credo il cugino e infatti leggiamo 16 adriana cristiana 18 massimo due giovani cristiana sorella di massimo bene io ricordavo l'esistenza di questo appunto proprio perché avevo letto della della vicenda ma dopo il contributo del canale mosse di firenze ho voluto riprenderlo e rispolverarlo per me era curiosità perché non ne ricordavo le caratteristiche ovvero contenuto e metodo di stesura e niente non appena mi è apparsa questa immagine io sono rimasta pietrificata perché ho immediatamente ricordato questa calligrafia che potrei riconoscere lontano un miglio io ho potuto riscontrare le stesse caratteristiche grafologiche perché lo scorso anno come molti di voi avranno già visto ho effettuato un'analisi di approfondimento su altri reperti correlati in qualche modo la vicenda del mostro di firenze mi riferisco nello specifico agli appunti stesi nel 1985 da luigi napoleoni ispettore della squadra mobile di perugia dal 1971 al 1987 che effettuò anche delle indagini legate al mostro di firenze che ho approfondito appunto per sviscerare quelle che erano le parole mancanti tra virgolette apparentemente intraducibili infatti a febbraio scorso o dello scorso anno però ho pubblicato un video ancora online in cui descrivo quelle che erano le parti mancanti diciamo alla decifrazione di una calligrafia astiosa ma inconfondibile io credo che in questo momento probabilmente qualcuno starà sobbalzando ragion veduta aggiungo comunque pur non avendo dubbi sulla corrispondenza calligrafica per poter porre questo elemento alla vostra attenzione ma soprattutto all'attenzione degli organi di competenza ho ritenuto necessario ottenere da un consulente specializzato un parere tecnico in merito all'identità di mano e così ho fatto ho contattato il dottor francesco rende noto grafologo e l'ho incaricato di effettuare una comparazione fra gli appunti ritrovati nel locale in cui venne rinvenuta esamine elisabetta ciabani e quelli emersi a perugia redatti dall'ispettore luigi napoleoni nel 1985 francesco rende è uno tra i migliori grafologi in italia anzi a detta degli esperti in materia è il numero uno io non me ne intendo particolarmente ma aver avuto il privilegio di conoscere il suo metodo di analisi mi è stato di fondamentale accrescimento francesco rende è iscritto all'albo dei periti ed esperti del tribunale civile penale di roma ed è consulente perito grafologo giudiziario per il suo curriculum e per la stima che ho riscontrato da parte degli esperti in materia che appunto stima che nutrono fortemente nei suoi confronti ho voluto interpellarlo e senza indicargli la natura dei documenti che gli andavo a trasmettere né tantomeno accennarli la mia personale deduzione gli ho chiesto di certificare il suo parere in merito che adesso vi mostrerò nel dettaglio anche perché mi preme illustrarmi una vera e propria perizia grafologica spesso nell'ambito della vicenda del mosso di firenze si è toccato l'argomento però devo fare una premessa dovete sapere che dal momento in cui ho inviato il materiale al dottor rende ossia il 5 settembre scorso alle ore 16 dopo solo le due ore lui mi ha chiamata e mi ha pronunciato testualmente dottoressa è così la mano è la stessa ed è anche abbastanza evidente non sono rimasta stupita perché effettivamente l'evidenza emerge anche agli occhi di non esperti ma ciò che mi ha colpito è stata una sorta di suo stupore o almeno io così l'ho interpretato perché probabilmente le perizie comparative generalmente si presentano in maniera molto più complicata rispetto a quella che ho chiesto io trattandosi generalmente di un confronto fra una calligrafia autentica ed una invece volutamente camuffata nel mio caso invece si trattava di documenti redatti senza forzatura alcuna ergo un gioco da ragazzi per un esperto del calibro di francesco rende che infatti ha confermato a priori il mio presagio ma veniamo alla perizia tribunale ordinario di roma parere proveritate in merito all'eventuale identità di mano tra manoscritti anonimi ecco ci tengo a premessere anzi leggiamo prima l'indice e poi facciamo un'altra premessa indice conferimento dell'incarico e quesito riproduzione del documento in verifica riproduzione del documento in comparazione premessa metodologica analisi del documento in verifica comparazione tra documento in verifica e documenti in comparazione conclusioni e risposta al quesito ecco quello che volevo sottolineare è che affacciarmi alla grafologia mi ha aperto un mondo perché non sapevo che fosse una materia così vasta ma al contempo molto meticolosa e precisa la grafologia differenza di quanti possono pensare ed approcciare non è un argomento da salotto ma una disciplina estremamente importante ed efficace soprattutto ai fini giudiziari ed extra giudiziari io ho avuto modo di appurarlo dapprima grazie ad un autente grafologa monica che mi ha contattata un anno e mezzo fa in merito alle mie ricerche sulla lettera al giornalista vagheggi e che mi ha decisamente incuriosita e poi attraverso anche il lavoro del dottor rende ovviamente colgo l'occasione per salutare e ringraziare monica la quale peraltro ho chiesto di sintetizzarmi il suo pensiero da grafologa sulla grafologia per trasmetterlo a chi come noi non è addentro a questa specializzazione monica mi ha innanzitutto sottolineato che la grafologia non è un'arte esoterica praticata da pochi eletti sensitivi ma una disciplina che si basa su fondamenti ben precisi studiati e verificati nel corso di molti decenni la grafologia mi scrive monica una scienza sperimentale caratterizzata da un oggetto di studio la scrittura e da un metodo fondato su segni e leggi grafiche che ne garantiscono l'attendibilità scientifica e la comunicabilità nasce come scienza in francia nel 1875 in italia si diffonde grazie ai due capiscuola moretti marchesan e con l'apporto importantissimo successivamente di palaferri la grafologia è un'espressione di noi stessi altamente individualizzante non esiste una scrittura uguale ad un'altra perché ciascuno di noi ha un sistema nervoso diverso e le peculiarità espressive fortemente personalizzanti della scrittura mano intesa come movimento individualizzato permettono di risalire allo scrivente per questo la grafologia viene usata anche in ambito giudiziario durante gli anni tutte queste conoscenze mi scrive sempre monica sono state verificate e integrate con le nuove informazioni acquisite nell'ambito delle neuroscienze. Premesso questo ora vi mostro appunto la perizia che ho ricevuto dal dottor Francesco Rende quindi parere provitate in merito all'eventuale identità di mano tra manoscritti anonimi l'indice che abbiamo già letto e poi partiamo in data 5 settembre 2022 mi veniva conferito l'incarico di accertare se il manoscritto in verifica di cui in figura 1 quella che vediamo di seguito denominato x1 fosse stato o meno vergato dalla stessa mano che ha vergato i manoscritti di cui in figure 2 6 da 2 a 6 di seguito denominati c1 c5 da c1 a c5 quindi c1 c2 c3 c4 c5 che presto vedremo il presente elaborato allo scopo di rispondere a detto quesito. Quindi questi sono gli appunti trovati nel locale lavanderia in cui venne trovato il cadavere d'Elisabetta Ciabani e questi sono gli appunti che ho trasmesso al dottor Rende ossia redatti da Luigi Napoleone nel 1985 relativamente a un'indagine che lui effettuò in relazione ai delitti del mosso di Firenze. Quindi c1, c2, c3 e c4 e c5. Io credo che conosciate bene questi appunti perché si è ampiamente discusso negli anni di questi appunti del perché il dottor Napoleone intrapresa appunto questa indagine sul mosso di Firenze. Detto questo leggiamo cosa scrive il dottor Rende. L'accertamento sulla sottoscrizione in verifica è stato effettuato utilizzando gli strumenti propri della cosiddetta perizia grafica su base grafologica. Confronto Tribunale Saluzzo, primo luglio 1949, Capello, rivista penale 1950-2238, Corte d'Appello di Trento, 25 maggio 1956, Giustizia civile 1956-25, Cassazione penale 23 dicembre 1959, Caputo, Giustizia penale 1969-358, Cassazione penale sezione quinta 27 gennaio 1984-774, Sentenza del Tribunale di Bari numero 1275 del 20 giugno 1986, Processo a Brescia numero 2022-85, Registro generale numero 1742-185, Registro generale pubblico ministero, Cassazione penale sezione quinta, sentenza numero 15852 del 29 novembre 1980, udienza del 23 ottobre 1990. Nage, Tribunale penale Taranto numero 644 del 20 giugno 1996, Cassazione penale sezione prima 15 giugno 2007 numero 24667, Cassazione civile sezione terza 7 febbraio 2005 numero 2411, Corte di Appello di Bologna, sentenza del 9 marzo 2004, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 maggio 2004. Gli elementi identificativi che sono stati presi in considerazione in sede di analisi e comparazione sono sintetizzati nel seguente, ma non esaustivo, elenco. Quindi, già parte di quello che vedrete è stato sufficiente. Non era necessario andare oltre, questo intende. 1. Pressione, intozzata a primo modo, grossa, filiforme, intozzata a secondo modo. 2. Curva angolosa. Curva, angoli A, angoli B, acuta, angoli C. 3. Triplice larghezza, largo di lettere, stretto di lettere, largo tra lettere, stretto tra lettere, largo tra parole, triplice larghezza, lettere addossate. 4. Dimensione grafica o calibro, ovvero calibro grande o alto, calibro piccolo, minuta, calibro medio, spadiforme. 5. Inclinazione grafica, ovvero pendente, rovesciata, dritta, contorta. 6. Direzione del rigo, ovvero mantiene il rigo, oppure ascendente, discendente, piantata sul rigo. 6. Notate quante caratteristiche ha la nostra calibrafia, senza che noi possiamo averne sensore. 7. Tensione, ossia aste concave a destra, aste rette, aste concave a sinistra. 8. Ritmo grafico, diseguale, metodico del calibro. 9. Uguaglianza, disuguaglianza, non metodica. 9. Parallela, pedante, uguale, disuguale, non metodico o disordinata. 10. Continuità grafica, attaccata, legata, staccata, frammentata. 10. Spontaneità inibizione, flessuosa, fluida, calma, titubante, tentennante, stentata, artritica. 12. La lettera e le sue espressioni. 11. Parca, allungata o alta, spavalda, solenne, chiara, nitida, oscura, confusa, grovigliata, minuziosa, grossolana, apertura a capo della O e della A, profusa, dilatata, fine, elegante, spadiforme, ponderata, recisa, austera, piantata sul rigo, ardita, dinamica, secca, irta, cartocciata, sciatta, vezzosa. 13. Accuratezza grafica, gettata via, accurata spontanea, compita spontanea, compita sostenuta, levigata, accurata studio. 14. Gesti fuggitivi, ricci sobrietà, ricci spavalderia, ricci flemma, ricci soggettivismo, ricci mitomania, ricci confusione, ricci nascondimento, ricci ammanieramento. Il rilievo dei suddetti segni identificativi è stato integrato con l'analisi dei seguenti parametri di ordine grafico. 15. Impaginazione della grafia, valutazione dei margini, di sinistra, di destra, superiore ed inferiore, valutazione dei rapporti di interrego, allineamento orizzontale ed ambito di variabilità, valori dimensionali delle altezze ed ambito di variabilità, 16. Valori di spazzatura orizzontale, ossia di lettere, tra lettere e tra parole, ed ambito di variabilità, andamento degli assi laterali in ordine alle convergenze, alle pendenze e agli aspetti formali, chiarezza e leggibilità delle strutture grafiche, livello di ordine e personalizzazione della grafia, modalità di distribuzione delle ampiezze orizzontali in relazione a quelle verticali, e ancora valutazione e costruzione di eventuali rapporti grafometrici tra le dimensioni orizzontali e verticali, rilevazione degli attacchi e stacchi tra lettere, rilevazione dei punti di accelerazione ed evidenziazione delle caratteristiche che la determinano, rivelazione dei punti di rallentamento, qualificazioni del movimento scrittorio, sciolto, difficoltoso, stentato, a sbalzi, impulsivo, compito, rilevazione della natura grafomotoria e temperamentale, emergente dal movimento di base, rilevazione della formula grafica identificatoria, rilevazione della particolarità espressiva e derivanti da modalità fortemente personalizzanti, valori di intensità della pressione in relazione ai quattro momenti di distribuzione della stessa lungo il tracciato grafico, in accelerazione, in rallentamento, in amplificazione, in riduzione. I confronti di seguito mostrati sono meramente esemplificativi e non esauriscono l'ambito delle analogie o delle difformità che possono essere riscontrate tra sottoscrizioni in verifica e in comparazione. I seni tratti dai differenti sistemi grafologici vengono utilizzati solo a scopo identificativo e tassonomico. Vediamo i grafici. Analisi del documento in verifica. L'analisi del documento in verifica, in questo caso vi sto mostrando sempre il biglietto trovato a Scicli nel 1982, dove morì Elisabetta Ciabani. Quindi l'analisi del documento in verifica è volta a enucleare quei tratti caratteristici che sono propri dello scrivente. In particolare, nel caso in esame, sono stati rilevati tra gli altri i seguenti elementi identificativi. Presenza di vistosi ricci dell'ammanieramento. A inizio parola. Ammanieramento si riferisce a una grafia ricercata che presenta tratti artificiosi all'inizio delle parole o all'interno o alla fine, sia nelle lettere minuscole, sia nelle maiuscole, senza tuttavia spingersi nello spazio occupato da altre parole. Presenza di puntini della I incorporati, ovvero legati senza soluzioni di continuità al corpo della lettera, con collegamento angoloso alla base. I incorporati. I tagli della I non si staccano dall'asta e sono tracciati con un solo moto scrivente. Presenza di vertici superiori acuti o comunque angolosi, ad esempio nelle A maiuscole. Angolosa si riferisce a una grafia i cui tratti all'interno delle lettere e nei collegamenti interletterali, curvilinee del modello scolastico, presentano spigolosità per impercettibili arresti che rompono la continuità del movimento. Quindi lui in questo momento ci sta descrivendo le caratteristiche grafologiche degli appunti ritrovati a Scicchi dell'82. Questa è soltanto una descrizione dei punti eclatanti, dei punti più caratteristici di questi appunti. Presenza di ovali estesi e angolosi, con presenza di due o tre angoli smussati. Gli ovali estesi sono quelli che, contrariamente a quanto prescritto dal modello scolastico, sono più larghi che alti. Gli ovali che presentano due o tre angoli smussati rientrano invece nel concetto di angoli B. L'angolo B è rappresentato da due o più angoli appuntiti nelle lettere O, A e derivate, ossia D, G, B, C, P, Q, H. Qui lui invece trova presenza di ricci della flemma, con tratto terminale angoloso e rivolto verso l'alto. Graffia con il trattino finale di parola quanto le lettere lo comportano dal procedimento pigro e lento che scende sotto la lettera e ritorna in su, oppure tende a scendere sotto la base con un piccolo gancio finale, più o meno visibile, oppure si dirige in basso per breve spazio in linea retta o poco curva. Presenza di convolvoli o occhiali nella lettera C e nella cifra 2. Il convolvolo si manifesta come movimento a voluta o a spirale che va a conformare le lettere contratti superflui che Moretti definisce giri inutili. Presenza di gesti terminali concavi verso l'alto in finale di parola. Per le loro modalità espressive i detti gesti si collocano comunque nel segno ricci della fremma di cui si è detto in nota 7 a pagina 15. Presenza di segni diacritici di forma peculiare, a coda di rondine o orizzontali. Presenza di una non omogenità nelle inclinazioni assiale. Alcune lettere o parole sono pendenti, altre rovesciate, altre sostanzialmente dritte. Con la non omogenità dell'indicazione si alternano per intere parole righe o settori dello scritto tre modalità pendente, dritta, rovesciata. La scrittura pendente è quella in cui le lettere nella scrittura sono costantemente inclinate verso destra. La scrittura dritta è quella in cui le lettere della scrittura sono tutte a 90 gradi perpendicolari al rigo di base. La scrittura rovesciata, infine, è quella in cui le lettere della scrittura sono tutte inclinate a sinistra. Alternanza tra stampatello maiuscolo e corsivo. Si tratta di una forma di non omogenità nella forma per la quale si rimanda già al citato punto Palaferri-Nazzareno. E questo è quello che lui, diciamo, visualizza nelle caratteristiche degli appunti trovati nell'82 nel locale lavanderia. Adesso invece arriviamo alla comparazione. Comparazione tra documenti in verifica e documenti in comparazione. Ascoltate cosa ci dice. Tra documenti in verifica e in comparazione sono state riscontrate, tra le altre, le seguenti analogie sostanziali in assenza di difformità qualsivoglia che non possano essere ricondotte al normale ambito di variabilità scrittoria. Analoga, pressoché identica costruzione della C minuscola o conchiglia o convolvolo. Analoga, pressoché identica costruzione della C minuscola o conchiglia o convolvolo. Analoga, pressoché identica, ossia con costruzione della C minuscola o conchiglia o convolvolo. Analogo, pressoché identico gesto terminale in finale di parola, prolungato in vezione orizzontale e leggermente concavo verso l'alto. Analogo, pressoché identico. Io spero riusciate a vederlo. Ma, ripeto, questi documenti sono pubblici da tempo e quindi potete constatarlo anche voi, come ho fatto io. Analogo, pressoché identico gesto terminale in finale di parola che prima discende verso il basso e poi sale lentamente verso l'alto. Riccio della flemma. Analogo, pressoché identico. analogo riccio dell'ammanieramento a inizio parola. Si tratta di un gesto preparatorio altamente identificativo in quanto di non comune riscontro. Altamente identificativo. analoga, pressoché identica, presenza di ovali estesi con la presenza di angoli B, tre vertici con angoli smussati o angolosi. Analoga, pressoché identica. presenza di puntini delle I incorporati, ovvero tracciati senza soluzione di continuità con il corpo della lettera. Analoga, pressoché identica presenza di puntini delle I incorporati. Questo è stato la prima cosa che ho notato guardando gli appunti di Scicli. Questa I, è stato quello che mi ha ricordato gli appunti di Napoleone. Andiamo avanti. Analoga alternanza tra stampatello maiuscolo e corsivo con analoga conformazione e costruzione delle lettere maiuscole. Si vedono ad esempio la R e la A. Sono identiche. Sono identiche. Analoga non omogeneità dell'inclinazione con lettere e parole pendenti, rovesciate e sostanzialmente dritte che si alternano senza alcuna logica intrinseca. Presenza di vertici superiori acuti o comunque angolosi, ad esempio nelle M maiuscole. Presenza di segni diacritici peculiari, quali ad esempio trattini orizzontali che vengono apposti all'altezza del rigo e non a metà, contrariamente a quanto previsto dall'uso e dalla consuetudine. Prima di arrivare alla conclusione del documento che vi sto mostrando, volevo mostrarvi anche un altro aspetto fatto in casa, diciamo. Questo è un documento firmato e scritto, almeno nella data, da Luigi Napoleoni. Come potete vedere 26.06.2002. Questo è sempre l'appunto rinvenuto nel locale lavanderie a Scicli. E guardate, sono proprio uguali, non si scappa. Io non credo che ci siano molte possibilità di dubbio. Credo che sia visibile a occhio nudo. E ancora, anche questo sono degli appunti che prese Napoleoni relativamente alla morte di Francesco Narducci. E anche in questo caso è imprescindibile la comparazione e l'identicità. Veniamo ora alle conclusioni. Quando, tra due insiemi di scrittura in verifica e in comparazione emergono solo analogie sostanziali, in assenza di difformità qualsivoglia che non possano essere ricondotte al normale ambito di variabilità scrittoria, l'unica conclusione tecnicamente possibile è quella di identità di mano. Ne consegue che, pur fatti salvi gli inevitabili limiti della perizia su fotocopie, su cui fa fede l'attuale giurisprudenza in materia, se ne deve concludere che la mano che ha vergato il documento X1, ossia gli appunti trovati ai Scicli, è la stessa che ha vergato i documenti C1, C2, C3, C4 e C5, ossia redatti da Luigi Napoleoni. Ora, tengo a precisare che il mio intervento non vuole assolutamente muovere accuse o gettare ombre malevoli sull'ispettore Napoleoni lungi da me. Non sta a me trarre conclusioni o effettuare approfondimenti, ma eventualmente a chi di competenza. Io vi espongo un dato. Ovviamente, parallelamente, ho inviato un rapporto a chi di dovere per opportuna conoscenza. Come vedete, è ben difficile, se non improponibile, smentire l'autenticità e le indiscutibili corrispondenze fra le due calligrafie. L'unico interrogativo che per il momento mi sento di condividere con voi è questo. Ma è mai possibile che nessuno fra coloro che conoscevano Luigi Napoleoni e il suo modo di scrivere non si sia reso conto, non si sia accorto? Me ne sono accorta solo io? Perdonatemi, signori, però io lo trovo alquanto improbabile. Se così fosse, ammesso e non concesso che vi sia questa probabilità, allora forse è il caso di ponderare delle circostanze che finora non sono state valutate. Infine, ma non meno importante, permettetemi una ultima considerazione. Non è vero che gli studiosi, gli appassionati della vicenda del mostro di Firenze, quando anche non esperti o sprovvisti di tutta la documentazione agli atti, non sono utili. No, perché a me pare invece che negli ultimi anni i nuovi elementi emersi siano arrivati proprio da chi da casa, nel suo piccolo, sia impegnato e continua a sforzarsi con i pochi mezzi a disposizione. E questa è una verità. E sia chiaro, il riferimento non è la sottoscritta per farsi bella, ma tutti i blogger, gli youtubers e gli utenti che fin anche sui social network si dedicano ogni santo giorno al caso del mostro di Firenze con passione e impegno. Il materiale che vi ho mostrato è disponibile sui canali mostro di Firenze.com e in sufficienza di prove, grazie ai quali personalmente ho trovato decine di spunti di ricerca. Io sono fermamente convinta che solo la condivisione e l'attiva collaborazione siano l'unica forza veramente efficace che potrebbe fare la differenza per sanare una ferita ancora aperta e far luce su una verità che forse non è del tutto affiorata. Bene, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e a presto perché le novità non sono finite. A presto.